Il pino di piazza San Sebastiano ancora al centro dell'attenzione. L'arrivo degli operai incaricati del taglio degli alberi considerati pericolosi per la pubblica incolumità ha di nuovo agitato gli animi. Sul posto sono subito arrivati quei cittadini che si erano opposti all'abbattimento dell'unico pino superstite. Una persona stazionata sotto l'albero, altre hanno fatto sentire la loro voce. Sul posto è intervenuto addirittura il sindaco Roberto Materia che ha cercato di dialogare con gli oppositori. Alla fine, nell'emore che si dia nei chiarimenti richiesti dalla soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina, si è proceduto a mettere in sicurezza il pino tagliando i rami che avrebbero potuto creare problemi di pubblica incolumità. L'idea di transennare piazza San Sebastiano per interdire l'art traffico da un lato necessaria ha causato qualche disagio. Alla fine si è adottata la via di mezzo per togliere solo le parti pericolanti. Intanto i cittadini che si oppongono al taglio del pino superstite appaiono intenzionati a non molare la presa fino a quando avranno speranza di vedere in piedi quell'albero che per molti rappresenta un legame con la memoria storica della città di Barcellona Pozzo di Cotto.